e ciao a tutti ragazzi io sono metro 16 e oggi siamo nella serie degli cpi allora ragazzi se vedete alcuni blocchi un po più scuri di altri che è perché praticamente il wolfo 0 orto mi ha messo una modalità che mi impedisce di laggare un po c'è ragione però qui nel laboratorio lagga ancora un pochino non tantissimo però comunque lagga io spero che non si chiuda il video perché prima a caso si era chiuso il video ma non è che si era proprio non era apparsa non era nemmeno apparsa la scritta hai finito registrazione interrotta no e quindi purtroppo già ha piazzato la torcia dall sgp di oggi no 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 la memoria piena l'ho svuotata tantissimo tempo fa comunque l sgp di oggi è questo si se trovate già la torcia perché ce l'avevo già piazzata prima vabbè entriamo ci buttiamo lsgp di oggi allora felice se n'è andato purtroppo mi dispiace allora lsgp di oggi è il 023 di classe e quindi nell'immagine non si capisce molto bene che cos'è però vi spiego allora è un corridoio e qua c'è un un lupo allora il 023 è un lupo tutto nero che praticamente si comporta come un lupo normale praticamente lui la sua abilità è quella qua c'è una batteria la sua capacità è che se tu lo guardi nei suoi occhi rossi dovresti avere una maledizione vabbè non è chissà che però è un lupo direi di non perdere altro tempo e di entrare nella cella ho visto un muso allora io da quel che so la cella no no non lo guardiamo oh mio dio non lo guardiamo negli occhi sta uscendo no 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 non lo guardiamo non lo guardiamo guardiamo ok allora lui è tutto nero e si la sua cella doveva essere così avere questi tre corridoi e doveva avere delle telecamere sopra queste tre pia dovrebbero essere finte non portano dal nulla in teoria fatemi vedere visto vedete ecco sono sbarrate non danno sul niente sono così per estetica per il contenimento di 023 vedete ecco sono tutte finte eh si ha degli occhi che possiamo dire lui però comunque non mi attacca c'è no mi sta attaccando qui questa è l'ultima in teoria vedete vedete sono tutte vabbè proverò a attaccarlo magari fa qualcosa ok mi apparsa scritta you look at the black shark mi viene incontro ma per attaccarmi ok in teoria io ho guardato il black shark quindi teoria ok in teoria adesso io c'ho la maledizione in teoria dai attaccami dai voglio ok 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 e non è scasso allora ragazzi lui è fortissimo cioè è ancora controllo di me fa un cuore e me due cuori e mezzo di danno e no e no e no possiamo dire che non è scarso però è allora è allora è neutrale cioè che ti attacca solo se lo provochi come un lupo normale però sì mi ha dato la in teoria io dovrei morire ma non sto crepando cioè mi faccio uccidere da lui boh non so vabbè io lui si è calmato si è calmato black shark credo di sì credo ora poi non so se si è calmato sì o no sì si è calmato si è calmato o mi può no mi punta ancora mi punta ancora ho un mezzo cuore di vita vabbè senti facciamo questo esperimento proviamo a farci uccidere da lui così non rompe che sta rompendo tanto vediamo che scritta ci appare ok grazie mille vediamo un po' ok scp023 ha ucciso yulu e mi è apparsa di nuovo la scritta you look at the black shark vabbè qua c'è scp elettro 16 salve scp elettro 16 che cosa sta facendo robe vabbè mi è apparsa la scritta you look at the black shark però non sto morendo cioè no no c'ho c'ho la scritta non non ci sto crepando male cioè oserei dire beh qua comunque se l'ho già detto nello scorso video qua ho catturato normalmente scp082 cioè fernando il canale guardate qua c'ha tutto il cibo si ha fame così non ci mangia a noi poi ci stanno tutti i suoi amici in attesa che ci di la maledizione che in teoria di tempo ci dovrebbe impiegare un anno però noi siamo su minecraft quindi ci dovrebbe impiegare di meno intanto direi di fare un percorso su tutti i nostri scp così anche per farvi vedere i cellini e fra un po' dovrebbe finire il corridoio e poi è anche diminuita la luminosità l'ho messo dall'asca e no non mi da non sto credendo non ci sto morendo ma comunque fammi vedere qui i token ciao 055 devo vedere qua allora tra quelli che dobbiamo ancora visitare non uscire 055 abbiamo allora il 005 il 745 questo abbiamo già visto questo ure il 280 è 023 questo qua 023 dobbiamo vedere questo qua è quello di poi abbiamo il 280 che non penso lo vedremo cioè lo abbiamo il 280 lo abbiamo già visionato nella nella in mondo degli scp ciao felice è tornato felice felice allora c'è ho guardato il black shack mi ha ucciso il black shack e come dire come dire aspetta quando sono morto mi apparsa di nuovo la scritta you look at the black shack però non sto morendo ma perché non muoio cioè dovrei morire per la sua maledizione 10 minuti 10 10 minuti cioè io dovrei stare qua come un deficiente 10 minuti allora io odio quelli della classe perché ovviamente come hanno scritto mi hanno rovinato il video e ora devo editare tutto per rubire di nuovo per la seconda volta yeah non riesco lo so la vita fa schifo lo so la vita fa schifo niente ragazzi questo black shack non sembra fare niente ah come ragazzi nell'altro sito degli scp sono riuscito a catturare il 173 revisionato cioè questa è la statua però quella lì che avevamo visto molto tempo fa a me ragazzi non mi sta non so come dire ci sto crepando cioè no non sembra in teoria dovrei morire a caso in un momento del di sto posto però mi sta succedendo niente il coso lo catturerò nel video ve lo farò vedere perché cioè qua il scp elettro 16 cosa stai facendo si è buggato si è buggato il mio scp stava davanti una porta a non fare niente ma che ma che c'è ma c'era il 303 no vabbè fa niente ragazzi io comunque ragazzi per questo video è tutto stiamo anche da 10 minuti ragazzi il black shack non ci ammazza magari se ci ammazza ditemelo nei commenti perché io non sto avendo alcune ma io dalla wiki avevo letto che ci mette minuti però qua 4 minuti non so più che passato non sono ancora no vabbè ragazzi direi che questo video è tutto c'è tanti ben iscrivete ditemi se vi piace questa cosa che eh no io ne vorrei almeno 10 vabbè che ce la facciamo sempre e no sempre ho un po' troppo esagerato però comunque ditemi se vi piace questa modalità che mi permette di laggare di meno per fortuna e da me saluto il wolf il wolf 08 per avermi lo ringrazio per avermi benessero e da me benessero 16 e tutto ciao che non saluta è morto ok beh ciao